Musica Bentornato Cutler, bentornata Stavamo descrivendo l'installazione del sistema operativo Windows 7 Continuiamo ora con l'installazione Preparando il disco rigido ad accogliere il sistema operativo Mi chiederai come posso eseguire la partizione Quando ti si presenta questa finestra Clicca sulla partizione evidenziata In questo caso ce n'è soltanto una Per poter accedere alle opzioni Che in seguito ti serviranno per creare la partizione Ora, clicca su questo pulsante Opzione unità avanzate E accederai ad altre opzioni Infatti ti compariranno altri pulsanti Che ti permetteranno di eseguire alcune opzioni Sulla partizione da creare La nuova finestra si presenterà come in figura Avrai tre pulsanti Premendo su elimina Potrai eliminare la partizione selezionata Ma in questo caso ovviamente non è presente E non sarà attiva la partizione Come puoi vedere il pulsante non è in rilievo Non è in grassetto Ora dovrai cliccare invece su nuovo Per creare una nuova partizione Il pulsante formatta lo utilizzerai Magari in seguito Per poter formattare una partizione precedentemente creata Quindi clicca su nuovo Per accedere ad una nuova schermata In questa nuova schermata Potrai inserire All'interno di questa finestra Il valore Numericamente parlando Della partizione da creare Inserirai Il valore corrispondente Alla nuova dimensione Della partizione che dovrai creare Dopo aver inserito Il numero In megabyte Potrai attivare La nuova partizione Cliccando su applica Che valore vorrai inserire? Beh, diciamo che Un valore orientativo di 30 gigabyte Quindi 30.000 megabyte Potrà essere più che sufficiente all'inizio Inserisci all'interno di questa sezione 30.000 megabyte E clicca su applica Per creare Questa nuova partizione Un messaggio di allerta Di notifica Ti comunicherà Che il sistema operativo Creerà anche Una nuova partizione Ma Da 100 megabyte In questo caso Specifico Per lavorare Infatti sarà Una partizione Riservata al sistema Dovrai cliccare su ok Oppure Conferma Semplicemente Premendo il tasto invio Sulla tastiera Come puoi ben vedere A questo punto Avrai Una partizione Creata Direttamente Dal programma Di installazione Partizioni di 100 megabyte Che sarà riservata A Windows 7 La partizione Da te Creata Orientativamente Da 30 gigabyte E Uno spazio Residuo Che ti permetterà Di creare Una partizione In seguito Per memorizzare I tuoi dati Ora Se vorrai Potrai cliccare Su questa partizione E Premendo sul pulsante Formatta Potrai Formattare Questa partizione Essendo comunque Il disco vergine Non ti sarà necessario Infatti Dovrai Semplicemente Evidenziare Questa partizione E cliccare Su avanti Per continuare L'installazione Del sistema operativo Infatti Dopo aver cliccato Su avanti Si aprirà Questa schermata Che Durerà Un tempo Abbastanza ampio Tale da permetterti Un piccolo break Con il passare del tempo Qui compariranno Dei segni di spunta Per indicare Che le rispettive operazioni Sono portate a termine E qui La barra Incrementerà Il colore verde Per indicarti Il proseguo Dell'installazione Inizierà A questo punto Una fase abbastanza lunga Che prevederà La creazione Di cartelle All'interno Della partizione Che hai Appena creato Nella quale Verranno copiati I file Del sistema operativo I programmi In esso integrati E i driver Delle periferiche Presenti All'interno Del pc Da notare Che Naturalmente Il sistema Potrà avviarsi Più di una volta Non dovrai Far altro Che Assecondare Quest'operazione Senza intervenire A meno che Un tuo intervento È Esplicitamente Richiesto Dall'installazione Dopo il primo Riavvio Ti potrà sembrare Che già È tutto terminato In quanto Si presenterà Questa schermata Di avvio Di windows Ma non è proprio così Perché dovrà Terminare con altre operazioni Infatti Dovranno ad esempio Avviarsi i servizi Che serviranno Al sistema operativo Per funzionare Alcuni dei quali Vedremo in seguito Anche non necessari All'uso stesso Del computer Successivamente Avrai presentata Questa schermata Che ti indicherà Che l'installazione Procederà Con la preparazione Del computer Per il primo Utilizzo A questo punto Clicca pure Su personalizza Accederai A una partizione Che ho creato Grazie a una macchina Virtuale Per questa Specifica lezione Partizione Partizione di 127 GB Clicca ora su Opzioni Per accedere Ad altri pulsanti Che interagiranno Sulla partizione stessa Il pulsante Elimina Eliminerà La partizione Selezionata Formata Formatterà La partizione Ora clicca Sulla partizione E sul pulsante Nuovo Si aprirà Una finestra All'interno Della quale Dovrà inserire Il parametro Di dimensione Date scelto Ossia 30 GB 30.000 MB Dopodiché Cliccando Su applica Ti verrà Notificata La creazione Di una partizione Necessaria A Windows Per il suo lavoro E Selezionando Su ok Darai luogo Alla creazione Delle partizioni Ecco le tre partizioni Generate Quella da 100 MB Riservata al sistema Quella da 30 circa Dove installerai Il sistema operativo E quella Che ti permetterà Di memorizzare I tuoi dati Clicca su Nuovo Nella nuova finestra Clicca su Applica E verrà creata Una partizione Dello spazio Residuo Nella quale Potrai memorizzare I dati Ora clicca Sulla partizione Da 30 GB E su Avanti Da questo momento In poi Inizierà L'installazione Pera e propria E durerà Diversi minuti Per ovvie ragioni Didattiche Ho ridotto Questa fase Dell'installazione A pochi secondi Ma questo è quello Che avverrà Nell'arco Di pochi minuti Al termine Il sistema Inizierà Una fase Che procederà Il riavvio Fase Che potrai Interrompere Cliccando anche Su riavvia ora Il computer Si riavvierà Automaticamente Ma al termine Di questa fase Non si avvierà Subito Windows 7 In quanto Dovranno Avviarsi I servizi Del sistema Operativo E subito Dopo questa fase Avrai la schermata Di preparazione Del computer Per il primo Utilizzo Schermata Che dovranno Qualche secondo Prima del tuo Intervento Bene Nella prossima Lezione Finalmente Porterai A termine L'installazione Del sistema Operativo Eseguendo Altri Interventi Ora Un forte Saluto Ciao a presto Da Carlo E alla prossima E alla prossima E alla prossima